un saluto a tutti i videoascoltatori di italia medievale oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato dai naudi dal titolo le meraviglie del parto donare la vita tra medioevo ed età moderna di alessandra foscati che abbiamo il piacere di avere nostra gradita ospite perché ci parli di questo interessante volume e quindi come mia abitudine le lascio subito la parola per ascoltarla e sentire cosa ci racconta del parto a lei prego allora grazie per questa gradita questo gradito invito e questo volume intanto voglio dire che nasce su un'idea condivisa con un editore che è in audi e come sappiamo il fa il parto è un fenomeno storicizzabile vissuto percepito rappresentato in maniera diversa nel corso della storia nelle molteplici realtà sociali che di trattare l'argomento significa affrontare un ambito in cui confluiscono diverse discipline di studio la medicina sicuramente la filosofia la filosofia naturale sociologia religione diritto e quindi è un importante tema afferente all'antropologia culturale afferente alla storia della cultura e quindi questo libro vuole essere un affresco entro il quale un po tutte queste discipline in qualche maniera si incrociano un libro affronta un lungo periodo non solo il periodo medievale arriviamo fino al 600 e ci fermiamo nel momento in cui il parto si medicalizza da 700 in poi entra in maniera importante e prepotente forse se vogliamo il medico ostetrico in cui nascono le cliniche e nascono le scuole per le ostetriche ecco io in quel momento mi fermo e questo periodo lungo serve per segnalare i cambiamenti serve a segnalare i fenomeni di lunga continuità fenomeni di lunga continuità che non ci aspetteremmo o quantomeno io non mi sarei aspettata cioè concetti che continuano ad essere espressi anche i testi di medicina e che forse nascono da un ambito folclorico sulle meraviglie che l'utero poteva poteva nascondere e da qui anche il titolo le meraviglie del parto le meraviglie del parto inteso non quanto fosse meraviglioso parto in quel momento in cui le donne nella maggior parte dei casi morivano ma il prodigioso legato al parto e magari poi mi ci soffermo raccontando qualche qualche esempio relativo al periodo medievale e poi ci sono cambiamenti importanti pensiamo al concilio di trento dove c'è un si manifesta un interesse estremo verso il battesimo e quindi per il problema legato al rischio della perdita dell'anima del bambino che è un tema certamente rilevante ma mai avvertito così profondamente come nel periodo controriformistico e questo cosa significa? Significa che la salvezza dell'anima acquisisce un significato superiore alla tutela stessa della madre e questo è problematico soprattutto quando ci sono dei parti difficili dei parti distocici e ci si pone il tema di chi salvare se la madre il bambino e vedremo che nel libro cerco di dimostrarlo come nel medioevo generalmente si salvava la madre da un certo momento in poi la salvezza dell'anima del bambino diventa più importante della salvezza della salute della madre. Questo per me è anche molto interessante perché quando si racconta di un medioevo buio, oscuro che è il medioevo non degli storici, non dei medievisti ma il medioevo dei giornalisti o delle serie televisive, questo potrebbe essere anche un tema per dimostrare come il medioevo potesse essere meno scuro di quanto ci immaginiamo. E poi naturalmente l'altra grande cesura è il cambiamento, è il cesario, il tema del cesario, la nascita del cesario su donna viva perché dal 1581 un chirurgo francese François Rousset preconizza, mette in atto, scrive un libretto in cui sostiene che poteva essere praticato il cesario su donna viva, una cosa che non si era mai pensato fino a quel momento ma nemmeno nei miracoli dei santi compiti dai santi. Noi troviamo la possibilità di praticare un cesario su donna viva per salvare il bambino. L'unico esempio che ho trovato nel medioevo è una miniatura, ma perché probabilmente il miniatura non aveva idea su come illustrare il concetto della Vergine che libera a un certo punto una badessa da un bambino che aveva generato un rapporto sessuale con un fratecelliere, lei chiede scusa alla Madonna, e la Madonna la libera dal bambino che poi viene dato e sarà cresciuto insomma da un monaco, e quindi probabilmente il miniatore, sto parlando di un bellissimo manoscritto che riporta le cantiche a sponso e sabbio, non sapeva come illustrare questa liberazione da parte della monaca, ma è un'idea che proprio nel medioevo non troviamo. Ma certamente, ma François Rousset, come noi vediamo nel suo libretto, descrive questa pratica che è rivoluzionaria, ma di fatto dal punto di vista medico scrive poche pagine, ed è tutto il suo problema a dimostrare la fattibilità attraverso una serie di esempi che sono per noi assolutamente poco credibili, cioè di donne che dimostravano la ferita sull'addome dicendo che avevano subito addirittura sei cesari, cose impossibili da credere. Mentre il cesario esisteva, ma era praticato su donna morta, ed è un qualche cosa che si definisce proprio nel medioevo, poi mi ci soffermo un attimo. Però il problema di François Rousset mette in evidenza il problema delle fonti, perché raccontare la scena del parto è difficilissimo per uno storico, perché noi non abbiamo dei racconti di donne che ci raccontano la loro esperienza. Non ce l'abbiamo nemmeno nell'età moderna, quando abbiamo donne della nobiltà, principesse, che si scrivono lettere, si scambiano lettere tra madri, figlie, sorelle, ma raccontano la loro esperienza della gravidanza, poi del parto, non sappiamo più nulla. E la prima ostetrica che scrive è Louis de Bourgeois e scrive all'inizio del Seicento. E prima abbiamo sì una serie di testi medici, però molto spesso sono testi nel periodo medievale, perché poi dal metà del Cinquecento in poi le cose cambiano. Il periodo medievale è una serie di testi, e anche nella prima metà del Cinquecento, di autori medici che neanche entravano nella stanza del parto, quindi ripetevano cose già scritte in altri testi. Per esempio, lavorare sull'ostetrica, sul lavoro dell'ostetrica, capire il lavoro dell'ostetrica. Io mi sono resa conto che nel Medioevo i testi più interessanti sono le raccolte di miracoli di guarigione, i processi di canonizzazione, per esempio quello di Bernardino da Siena da questo punto di vista è interessantissimo, perché oltre, come corollario al racconto del miracolo, la dimostrazione della taumaturgia del santo, troviamo questi momenti di vita quotidiana in cui viene espresso anche il lavoro dell'ostetrica, e quindi soprattutto i metodi che attuava, attuati per la rianimazione del bambino, quando nasceva, quando usciva da un bambino che non era ben chiaro se fosse vivo o morto, perché avessi conto della vita, della morte nel Medioevo non era semplicissimo, ma anche oltre. E quindi praticavano, bevevano vini speziati, alitavano sulla bocca, sul naso, e anche nelle orecchie del bambino, cose di questo genere. E mi sono accorta che queste dimostrazioni del modo di agire delle ostetriche le troviamo solo in testi medici ben più tardivi, della seconda metà del Cinquecento, quindi questi miracoli ci raccontano i modi di agire delle ostetriche, oppure testi giuridici, il processo di una ostetrica floretta nel sud della Francia, un'ostetrica ebrea, e questo ci dice anche che le ostetriche ebree entravano nella sala del parto delle donne cristiane, quantomeno in certi periodi della storia, o quantomeno in zone in cui c'era la maggior possibilità di convivenza tra gruppi religiosi differenti. Ecco, quindi nel mio libro ho detto che cerco di far parlare le fonti, di non essere apodittica, ma di dimostrare dove io trovavo queste informazioni, molto spesso di non farci il reperimento. L'aspetto che mi hanno colpito molto e su cui ho insistito, ecco, è l'aspetto appunto del meraviglioso, che cosa usciva dall'utero delle donne, ci si aspettava che potesse riuscire anche delle meraviglie assolute, perché non è come oggi che c'è l'ecografia, bene o male sappiamo, cioè fino all'ultimo momento c'era l'incertezza, e quindi poteva, e il racconto che mi ha più affascinato è quello dedicato alla mola, dietro c'è veramente un mondo incredibile, la mola che è un fenomeno oggi medico, si chiama mola ai dati forme, che è un processo generativo della generazione difettoso, diciamo così, era considerato una sorta di mostriciattolo, ed era una specie di partenogenesi incompleta, nel senso che si pensava che la donna lo generasse da sola attraverso il suo seme, si credeva che la donna avesse un seme, questo da Galeno in poi, perché Aristotele lo nega comunque, e con pensieri lussuriosi, durante la notte avesse un pensiero lussurioso, emetteva questo seme, che poi andava a fecondare lo sangue mistruale, perché il sangue mistruale era considerato parte della, ci contribuiva alla formazione del bambino, e siccome mancava il seme maschile, ecco che si produceva questa mola che raccontano i medici medievali, aveva delle forme strane, poteva somigliare a un arpia, poteva somigliare a un topo, uscivano che erano vivi questi mostriciattoli, questi soggetti, delle rane che poi si attaccavano, uscivano, si attaccavano alle coltri del letto, e molto spesso andavano uccisi, cioè il fenomeno dell'avvene chiamato Frater Salernitanus, soprattutto dalle fonti mediche salernitane, ma poi lo ritroviamo anche nei testi di medicina del Cinquecento, andava ucciso prima che toccasse terra, perché altrimenti avrebbe ucciso la madre addirittura. E quindi quello che mi ha stupito è appunto ritrovare questi concetti ancora nella piena età moderna. e poi mi sono soffermata molto su un tema a cui tengo molto, che è quello che molto spesso diciamo dei Carmina e degli oggetti atti ad accelerare il parto. Molto spesso vengono considerate pratiche superstiziose messe un po' da parte. In realtà si tratta poi di pratiche, di oggetti che vengono presi in considerazione sia nei testi medici, sia nei testi religiosi, nei marginali a dei libri d'ore, per esempio. Parole che andavano scritte su pergamena, su foglie di carta, poi andavano messe pergamena il foglie di carta nell'acqua e quindi la donna doveva bere. Quindi erano parole che erano bevute oppure erano scritte su pezzi di pane o di mela o di formaggio, andavano mangiate. E si pensava che avessero un valore performativo così forte che nel momento in cui il bambino nasceva dovevano essere allontanate dalla donna, molto spesso si dice portale fuori dall'uscio perché altrimenti escono anche l'iliscere della donna. Quindi si credeva veramente nella forza assoluta di questi talismani da un certo punto di vista, possiamo definirli così. E i Carmina si richiamavano nella maggior parte dei casi erano delle invocazioni in particolare alla Vergine, l'unica che aveva partorito senza dolore, a Sant'Anna, ad Elisabetta. Molto interessante la formula che indicava veni foras lazare, lazare veni foras, è il modo in cui nel Vangelo di Giovanni si chiede a Lazaro di risuscitare, di uscire dalla terra, quindi si chiedeva al bambino di uscire dall'utero materno come se potesse uscire da una tomba. Quindi c'era il legame tra la nascita e la morte, che sono comunque nascita e morte due momenti antropologicamente così vicini, si manifestava anche in queste formule. poi naturalmente c'erano oggetti particolari che venivano utilizzati come l'Agnius Dei, quindi l'oggetto di cera memoriale in riferimento al papato, oppure altri oggetti di uso comune che possiamo anche capire per analogia la calamita certamente, però penne di animali, il cuore appena estrapolato di una gallina, oppure addirittura un medico del XV secolo Antonio Guaineri dice che sarebbe molto importante che qualcuno nel momento del parto ci fosse qualcuno che avesse mangiato carne di lupo perché in questo modo terrebbe lontano i malefici. Questo è stiamo parlando di un medico legato anche agli studi universitari quindi non stiamo parlando di ricettari che nascono da un contesto estremamente popolare ecco, quindi questo significa che si tratta di di tutta una serie di armamentari per così dire approvati dalla stessa medicina dalla medicina ufficiale per così dire se possiamo definirla tale. L'altra questione per me molto interessante è quella del Cesario del Cesario su Donna Morta che si definisce soprattutto nel Medioevo o quantomeno una simile estrazione del feto trovava una giustificazione nella tutela del concepito già nell'ordinamento giuridico del mondo romano e questo lo apprendiamo dalla lettura di alcuni passi dei digesta inclusi nel corpus iuris civilis la donna morta non poteva essere sepolta con il figlio all'interno dell'utero prima che venisse estratto perché diversamente sarebbe andata perduta la speranza di vita del bambino nel Medioevo si dice sempre che l'apertura del vetro materno della donna morta era legata al battesimo della alla necessità del battesimo del bambino è vero in parte è in gran parte vero ma non solo intanto inizialmente il problema era il tabù legato al fatto che una donna potesse essere partorita con un figlio ancora pagano nel suo utero quindi il fatto che il bambino non fosse battezzato faceva in modo che la donna non potesse ricevere l'esequo in chiesa o potesse essere battezzata sul suolo nel cimitero insomma sul suolo nel suolo benedetto ed è una pratica estremamente se vogliamo crudele nei confronti della donna ed è un qualcosa che però si stempera col passare del tempo e l'interesse si rivolge tutto verso la necessità di salvare l'anima del bambino bisognava incidere la donna per essere il bambino che se ancora vivo doveva essere assolutamente battezzato diversamente doveva essere sepolto non in luogo sacro quindi non nel cimitero possiamo immaginare che ci fosse una certa resistenza da parte delle donne da parte dei parenti nel far mettere in pratica un tale intervento infatti ci sono norme nei sinodi vescovili questa norma nei sinodi vescovili viene reiterata probabilmente perché viene disattesa e lo stesso intervento ha un'importanza fondamentale dal punto di vista giuridico della trasmissione dell'eredità a mio parere ecco forse si metteva in atto più in quei momenti perché se il bambino nasceva vivo anche solo per un attimo e questo valeva soprattutto per le famiglie ambienti i beni della madre rimanevano al padre anziché tornare alla famiglia della madre stessa cioè rimanevano al padre del bambino anziché tornare alla famiglia della madre quindi possiamo immaginare che si creavano dei contenziosi da questo punto di vista infatti il il racconto più interessante più 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 bello se possiamo dire che anche proprio più istruttivo da questo punto di vista su questa pratica io l'ho l'ho trovata in in un testo giuridico in un consiglium di un giurista Bartolomeo Cipolla perché viene chiamato a dirimere questo contenzioso i testi medici se ne occupano ma se ne occupano marginalmente proprio perché i i chirurghi i medici entrano nella scena del parto tardivamente non prima del quindicesimo secolo i primi medici chirurghi che entrano sono chirurghi pratici che molto spesso non hanno lasciato testi scritti ecco quindi la medicina da un certo punto di vista è non dico meno importante ma a volte ci dà delle informazioni non così precise su quello che succede nella scena del parto questo almeno per il medioevo dopo chiaramente le cose le cose cambiano ecco questi sono un po' i temi bene o male di cui mi sono occupata che poi ho approfondito poi il mio libro si conclude con diciamo in nove capitoli non a caso come un po' come i nove mesi e arriva alla nascita del bambino e alla e all'allattamento alla nascita del bambino e all'allattamento del bambino e si conclude con quella che è la benedizione della puerpera l'allattamento del bambino e il concetto del latte quale veicolo perché di fatto una sostanza che derivava dal sangue così era considerato cioè infatti derivava dall'utero attraverso un collegamento diretto tra utero e mammella poi c'era uno sbiancamento del sangue questo era quello che la fisiologia medievale antica e poi medievale trasmette e quindi c'era anche una una trasmissione dell'essere cioè il bambino poteva poteva acquisire dei caratteri dal dal sangue stesso la famosa frase che Virgilio fa pronunciare a Didone e contro Enea quando dice ti diedero le mammelle delle tigri ircane e quindi è spiegabile in questo modo cioè tu sei stato nutrito da tigri ircane quindi sei diventato una fiera selvaggia e quindi insomma ho cercato di vedere in quali testi dall'antichità poi si arriva questo concetto passa più all'età moderna nel medioevo lo troviamo meno sviluppato insomma non saprei insomma questi sono i temi più o meno che io ho cercato di sviluppare ecco bisogna andare a comprarsi il libro per riuscire ad entrare una domanda gli uomini non entrano mai in questa in questa dimensione agli uomini direi poco nulla o quanto meno nel medioevo sembra proprio di no poi è chiaro che se parliamo più tardivamente non so del parto di una nobile donna o per del parto di una regina ecco quello diventa un parto pubblico e allora si entrano anche gli uomini ma normalmente no normalmente no era anche un qualche cosa che doveva doveva rimanere addirittura Michele Scoto dice che se gli uomini avessero un'idea di che cosa esce dall'utero delle donne assieme al bambino non toccherebbero mai più la propria moglie quindi insomma e quindi dice queste cose che escono dall'utero della donna devono essere venivano prese secondo lui dall'ostetrica e poi venivano sotterrati in un luogo segreto conosciuto a lei stessa magari sotto una scala fuori dall'uscio lo dice quindi sì gli uomini tendono gli uomini per gli uomini suppongo che lei intenda il marito gli uomini tendono a non no a non entrare se non più tardivamente anche lì è difficile è difficile attraverso le fonti rendersi ben conto di quante come questi potessero essere presenti ecco un'altra domanda è famosa la storia di Costanza d'Altavilla che partorisce sulla pubblica piazza Federico II perché si diceva che non poteva c'erano varie ragioni per cui la gente non credeva che potesse ancora avere figli in quell'età ecco cose di questo tipo capitavano di frequente o è una delle poche di cui sappiamo io direi che è proprio una delle poche di cui sappiamo io non ho trovato per quest'epoca addirittura racconti di questo di questo genere ecco quindi la io apro il libro con un racconto di un parto quasi pubblico però siamo alla fine della siamo già nel quindicesimo secolo siamo in Spagna in Saragozza ed è una una nobile donna che deve sta per partorire un figlio postumo e quindi deve dimostrare che il figlio che sta per nascere che nascerà veramente un bambino da lei perché poteva essere anche come dicevo prima non si sa non si sapeva mai cosa poteva uscire dall'utero magari essere un parto surrettizio cioè non uscire nulla e soprattutto viene chiamato il notaio perché certifichi questa nascita e perquisisce le ostetriche per rendersi conto che queste non portassero un bambino dall'esterno che magari non lo sostituissero magari nasceva una femmina veniva sostituito con un maschio e quella paura era questa bene allora ricordiamo il titolo del libro in modo tale che possano correre a comprarlo per scoprire cosa sono queste meraviglie del parto infatti il titolo del libro è proprio le meraviglie del parto donare la vita tra medioevo ed età moderna appena pubblicato da Enaudi di Alessandra Foscati che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra granità ospite e che ce ne ha parlato ampiamente mentre a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale youtube dove troverete tutte le video di presentazioni realizzate finora compresa questa io la ringrazio davvero tanto sono io che ringrazio e mi ha fatto molto piacere partecipare a questa iniziativa grazie prego arrivederci allora arrivederci grazie a tutti grazie a tutti